Un'interrogazione parlamentare per capire come mai sia stato nuovamente prorogato l'affidamento a Damio Puglia del servizio di igiene urbana a Foggia. Un'interrogazione a firma dell'onorevole Lovecchio che ha presentato l'interrogazione alla luce anche di quanto sta accadendo nella città con la protesta delle associazioni. Ho presentato questa interrogazione parlamentare in quanto sono stato contattato da associazioni di cittadini della città di Foggia e in più anche perché dal 2013 al 2022 il servizio di accolta di rifiuti è affidato a Damio e abbiamo riscontrato nel tempo una inefficienza di questo servizio. Ora l'interrogazione va proprio in questo senso per capire come mai i commissari hanno deciso di voler prorogare, di assegnare per altri 9 anni questa raccolta di rifiuti a Damio. È vero che una società in house della città di Foggia partecipa per il 20% a Damio, però c'è anche da dire che come raccolta differenziata siamo tra i comuni più bassi d'Italia. Quindi l'interrogazione va proprio in questo senso per capire i motivi per i quali si cerca di affidare ad Damio per altri 9 anni il servizio di raccolta di rifiuti nella città di Foggia.